ciao ciao ragazze ciao a tutti voi vi chiederete ma perché la valentina alla testa così perché adesso andiamo a provare questa spazzola notare sono appena uscita dalla doccia e ho intenzione di provare questa spazzola con voi che mi è stata gentilmente inviata dall'azienda sotto trovate tutti i link tutte le informazioni allora andiamo a provarla perché sono veramente molto curiosa si presenta così voilà vedete col tasto credo avanti indietro non vorrei sperare una cavolata e con i vari gradi credo comunque adesso andiamo a provarla vi do prima una spazzolata adesso incominciamo attaccata alla corrente vedete ci sono due velocità uno e due qui esce aria fredda qui esce aria caldissima ah si e con questi tasti vedete destra sinistra destra sinistra incominciamo vedete tira su da solo e lasciate andare forte bellissimo e lasciate andare bellissimo notare già l'effetto tira su e lasciate andare no ma è troppo bella ottimo per cambiare la spazzola basta schiacciare questo tasto e vedete viene via da solo questo è il risultato finale essendo la prima volta di utilizzo devo dire che non è male io non ho mai avuto i capelli così in ordine l'effetto mi piace crespi zero belli pettinati asciuga molto velocemente spazzola leggera ha due ricambi all'interno vi faccio vedere anche il secondo e non dovete fare niente nessun movimento di polso perché fa tutta la spazzola tirate su e tirate giù tirate su e tirate giù più comodo di così man mano che la utilizzerò diventerò sempre più brava comunque vi terrò aggiornata in tutti i miei vlog quindi mi raccomando non perdete i miei video iscrivetevi commentate se potete e vi aspetto anche su instagram ciao 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 ciao